Sgominata dai carabinieri di Urbino la banda che negli ultimi mesi nell'Urbinate si era resa protagonista di numerosi furti e razzie. La banda usava per spostarsi rapidamente un Audi A4 grigia che sarebbe stata avvistata più volte nelle zone dei furti. Ieri pomeriggio una donna ha segnalato la targa e l'auto ai carabinieri di Urbino che la intercettavano in un posto di blocco a Pieve di Cagna. Dopo un inseguimento i carabinieri sparavano alle gomme dell'auto che si bloccava, recuperati dagli agenti numerosi arnesi da scasso ed una grossa mazza afferrata che i malviventi nel tentativo di fuga avrebbero tirato contro la macchina dei militari e i tre componenti della banda catturati. Questa mattina il giudice disponeva l'arresto per il più grande, un uomo di 75 anni, mentre per gli altri due, un 19enne e un 21enne, disponeva il divieto di dimora in provincia. I tre residenti ad Asti erano soliti passare alcuni mesi in un camping della zona.